Presto un nuovo ponte sorgerà a Taranto più piccolo nelle dimensioni ma più grande nell'intenzione che è assolutamente green, dedicato però esclusivamente a biciclette e pedoni. Si tratta di un'opera ambiziosa che quota poco meno di 7 milioni di euro. Consentirà di collegare il quartiere Tamburi alla linea di costa attraverso una veniristica rampa ciclopedonale, superando la linea ferroviaria, cesura urbana e paesaggistica al momento invalicabile. Il progetto è il primo step per la creazione di una ciclovia del Mar Piccolo che connetterà alla città i straordinari paesaggi del primo seno come il fiume Galesio, i cantieri Tosi, il parco della rimembranza e la nuova stazione Nassisi, rendendo quindi fruibile l'intera costa. La giunta Melucci ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del lungomare terrazzato del Tamburi, che da quartiere dei Fumi potrebbe presto diventare il quartiere più verde, assicurano da Palazzo di Città. Un investimento complessivo da 70 milioni di euro e i lavori che inizieranno già dai primi mesi del 2021. Oltre al lungomare terrazzato si prevede la foresta urbana sud e nord e il progetto di rigenerazione urbana diffusa su tutti gli spazi pubblici.